Un sacerdote di 82 anni è morto nello scontro frontale tra due auto lungo la regionale 308 del Santo, all'altezza dell'uscita di Borgo Ricco e altre due persone sono rimaste ferite. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, nonostante i soccorsi, Don Antonio Lissandrin, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, è stato dichiarato morto sul posto dal personale medico del Suem 118. Trasferiti in ospedale i feriti lievi, due marocchini di 19 e 23 anni che viaggiavano a bordo di una renome GAN. La strada regionale 308 è stata chiusa in entrambi i sensi e il traffico deviato su strade alternative. La polizia stradale di Treviso ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza. Don Antonio, originario di Galzignano Terme, attualmente viveva nella residenza dei Canossiani a Monfumo, in provincia di Treviso, dove era padre superiore, oltre che parroco di Castelli di Monfumo. Stava viaggiando in direzione di Padova, probabilmente per andare a trovare i familiari, il fratello e il nipote, a Galzignano, quando si è scontrato con l'altra auto. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo all'anziano sacerdote.